Sì, sicuramente è bellissimo. È bellissimo, però è bello perché comunque io non me l'aspettavo così presto, però è stata una sensazione unica, bellissimo veramente. Mi piace giocare in tutti i ruoli nel centro del campo, sia play, mezzala, se serve trequartista. Preferisco mediano, davanti alla difesa play, però anche mezzala mi piace molto inserirmi in qualunque ruolo o in mezzo al campo. Ma allora, questo gruppo secondo me è fantastico, più che altro perché siamo tutti giovani, che abbiamo tanta voglia di fare e quindi mi aiutano tutti molto. Dopo che ho fatto l'esordio ho ricevuto anche tanti bui messaggi, quindi sono felice di stare in questo gruppo perché è veramente un gruppo fantastico. Tu sia molto Marco delle Monache, io e lui siamo amici da piccoli. Lui giocava al Pescara, io al Chieti facevamo sempre contro e siamo amici da piccoli. Ora, quando l'ho esordito in Coppa Italia, gli ho scritto, quando io ho esordito quel Cesena, lui mi ha scritto, siamo molto amici. E vabbè, io ovviamente spero di arrivare il più in alto possibile e come ha detto anche Carlo, dipende da me. Il mio idolo è Verratti, perché secondo me è proprio un genio, è un genio del calcio secondo me, sotto tutti gli aspetti è fantastico. Poi, vabbè, da piccolo guardavo sempre Pirlo, che penso sia un idolo per tutti, per tutti i centrocampisti italiani, giovani. Però questi due sono quelli che mi hanno impressionato di più e in questo momento, in questi tempi, guardo molto, vabbè, Barella, che è un giocatore secondo me completo, che in Europa, come lui, non ce ne sono molti. Questi sono quelli che mi hanno di più impressionato e che guardo di più.